Buongiorno a tutte e a tutti, ben ritrovati, Crystal Radio vi dal buongiorno, Good Morning Milano vi dal buongiorno, io sono Fabio Ranfi, sono le 7.07 di oggi martedì, martedì 23 gennaio, buongiorno a tutte e a tutti ancora, e appunto siamo qua pronti per una due ore insieme fino alle 9 come sempre tutte le mattine con Good Morning Milano per raccontarvi un po' la città, quello che succede e anche e soprattutto quello che state facendo voi, perché sì, 3317853555. Non ve lo ricordo ma abbastanza effettivamente, però arrivano comunque i Whatsapp, quindi vuol dire che qualcuno di voi se l'è anche salvato in rubrica, chissà come se l'è salvato Crystal, oppure Good Morning, oppure disturbo Fabio la mattina, no, non ci disturbate per niente, anzi, 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 siamo ben contenti di condividere, di condividere le ore dell'inizio della giornata insieme, insieme a voi, di stare con voi queste due ore e di accompagnarvi nella vostra mattinata, siete nel traffico, siete ancora in casa, siete già usciti da ore, Cioè, c'è chi anche ci ascolta già dal lavoro, perché sì, noi siamo qui sempre a dire, ah, vi siete svegliati, ah, vi state lavando i denti, eh, avete fatto tutto, avete preparato i vostri vestitini per uscire, ma c'è chi, in realtà, alle 7.08, sta già lavorando, sta già lavorando, magari da tante ore, e magari sta per smontare anche, eh, sì, può essere che magari sta per finire il turno, e quindi, buongiorno anche a voi. Quindi, buongiorno a tutti, e quindi, iniziamo con la musica, la musica qui su Crystal Radio, 96.2 FM, Dub Plus, il sito internet, crystalradio.it, e poi dopo, beh, c'è anche il podcast. Con la pesce di Martino, stesso architettura, 7 e 11 minuti, ancora qui, ancora qui, sempre qui, sempre qui per raccontarvi quello che succede appunto nella nostra città. Cosa succede domani, lo sapete tutti? No, ve lo dico io, mercoledì 24 gennaio, cioè domani, sciopero dei mezzi ATM. ATM. Repubblica Milano in titola, sciopero dei mezzi a Milano, di mercoledì 24 gennaio, tram, bus e metro, ATM, ecco gli orari delle fasce a rischio. Sì, sul piedi di guerra sono le sigle del sindacalismo di base, quindi dai Cobas alla Cub, dall'USB alla Orsa, possibili disagi tra le 8.45 e le 15, e dalle 18 fino a fine servizio, sapete, non è sempre quello. La fascia è sempre quella. Quindi è giornata a rischio appunto per i mezzi pubblici domani, come dicevo le sigle che promuovono questo sciopero sono quelle del sindacalismo di base, quindi i Cobas lavoro privato, Cub trasporti, USB, ADL, SGB e l'associazione lavoratori Cobas e Orsa, quindi l'associazione sindacale. Sciopero, come dicevo, dovrebbe essere tra, o meglio, si svolgerà lo sciopero tra le 8.45 e le 15 e tra le 18 fino a fine servizio, perché usiamo sempre il condizionale, non tanto per le fasce, queste sono le fasce in cui ci sarà lo sciopero, perché non si sa mai quanta gente è l'adesione, il problema rimane sempre l'adesione, quindi capire quanta gente aderirà a questo sciopero. È il sindacalismo di base, ma sono tante sigle, quindi attenzione che potrebbe esserci qualche sorpresa. Ricordiamo che negli ultimi scioperi non c'è mai stato il blackout completo, lo stop completo di tutte le linee, quindi insomma dovremmo riuscire a muoverci comunque in città, ma soprattutto non sottovalutate, ve lo dico, i mezzi di superficie. I mezzi di superficie, quelli di superficie, cioè outbus, tram, così, quando ci sono gli scioperi a volte sono meglio di quelli di sotto della metropolitana, perché sono più facili da gestire, ti serve meno personale nelle stazioni delle metro, serve il personale delle stazioni delle metro, serve il personale che guida le metropolitane, ma soprattutto quello che appunto controlla che tutto funzioni anche nelle centrali operative, e quindi è più facile che qualche sciopero lì poi vengano spostate le persone e magari ridotti i tratti, vengono chiusi rami delle varie metropolitane verdi o rosse, invece i mezzi di superficie di solito ne passano di meno, sicuramente, ma qualcosa, qualcosa passa. Salario, sicurezza e diritti. Queste, secondo appunto la notizia che leggiamo sul Corriere Milano, sono le parole d'ordine alla base dello sciopero nazionale degli auto ferro-tranvieri. Ricordiamo che c'è anche lo sciopero dei treni che, sappiamo sempre, sono leggermente diverse le fasce, dovrebbe iniziare appunto alla mezzanotte di oggi, cioè a fine giornata oggi, poi dopo, e quindi si svolgerà nella giornata di domani. Attenzione anche lì, fatevi un giro sul sito di Trenord, così che si possa capire bene anche lì le fasce di garanzia. Di solito sono leggermente sfalsate rispetto a quella TM, ma si può arrivare in città e lasciare la città, di solito, in maniera abbastanza semplice, no? Però diciamo sicura, ecco, nel senso, sicuri che in quelle fasce qualcosa passa e possiate andare al lavoro, andare all'università o comunque vivere la nostra città. Se invece in questo momento siete in giro, magari lo state facendo in macchina e magari proprio dall'autoradio ci state ascoltando, no? Perché ricordatevi che noi siamo anche nell'autoradio con l'FM 96.2 a Milano o Dub Plus, cioè la radio digitale che trovate scanalando nelle funzioni mode della vostra autoradio. Con il Dub Plus, appunto, c'è Crystal Radio. Ma se siete nel traffico, magari, o state per entrare nel traffico, magari volete sapere che cosa vi aspetta la giornata di oggi. Allora, luce verde! The Beatles Get Back, 7.31 minuti, bentornati, appunto, Get Back. Si ritorna qui su Crystal Radio dopo una piccola pausa per la seconda mezz'ora di trasmissione. Se vi piacciono i Beatles, vabbè, se no, se vi piacciono i Beatles forse l'avete già visto, ma comunque ve lo dico lo stesso. Get Back è anche il titolo di un fantastico documentario diretto e prodotto da Peter Jackson. Sì, quello lì, quello del Signore degli Anelli, proprio quello, sì, sì, sì. Lunghino, nel senso che è diviso in puntate, eh? È diviso in puntate, però fate il conto che il totale fa 468 minuti. Sono, credo, 7 ore qualcosa in totale. Però, vabbè, cioè, non manca. Molto, molto bello. Mi immagini davvero inedite, anche se siete appassionati dei Beatles, molto probabilmente troverete qualcosa che non avete mai visto, mai sentito, perché tantissimi materiali inediti, tantissimi audio inediti e soprattutto il grande lavoro di Peter Jackson è stato quello di creare, grazie all'intelligenza artificiale, grazie alla tecnologia che ormai è possibile utilizzare, un documentario in cui alcune parti, soprattutto di audio, che si erano persi in questi anni nascosti dentro a nastri rovinati, beh, sono ritornate alla luce, cioè grazie appunto all'intelligenza artificiale è stato fatto un restauro di tutti quegli audio che sono stati utilizzati per creare il documentario Get Back. Lo trovate su Disney Plus. È una produzione pazzesca di una bellezza, a dir poco, stupenda. Comunque, se vi piacciono i Beatles non potete perdere di questo. Andiamo avanti con le notizie, perché invece ieri, sempre rimanendo in tema di incidenti e viabilità, visto che questa mattina abbiamo parlato sia del traffico che sia dell'incendio di Cavenago, beh, ieri invece, se stavate tornando a casa verso le 5 ed eravate alle parti di Rho, avreste potuto trovare un po' di traffico. E beh, perché? Perché, lo leggiamo dalla Repubblica, di Milano Repubblica, Rho, camion cisterna che trasporta acetone, si ribalta sulla tangenziale e il carico finisce sull'asfalto, strada chiusa, incidente avvenuto intorno alle ore 17 sul raccordo tra la tangenziale nord e la stradale del Sempione, vicino alla rotonda Cerchiarello. Per fortuna il conducente non è grave, in codice giallo, dato in codice giallo all'ospedale, il problema è stato poi tutto quell'acetone riversato sulla strada. I pompieri, i vigili del fuoco, sono intervenuti e hanno in realtà rinvasato, cioè hanno preso l'acetone che c'era nella strada e l'hanno rimesso nella cisterna, perché la cisterna effettivamente non ha avuto danni, si è semplicemente ribaltata e è saltato il tappo, diciamola male così. Tanti fatto che appunto grande traffico, tutto bloccato per ore, oltretutto pulire l'acetone dal pavimento lì non è stato facile. Nel caso dobbiate cambiare, credo che funzioni per quello l'acetone, nel caso dobbiate cambiare lo smalto alle unghie, potete passare da quelle parti, se passate mettete fuori la mano dal finestrino, grattatela un attimo sull'asfalto, a quel punto non so se è l'asfalto che vi tira via l'unghia o l'acetone che vi tira via lo smalto, e questo non lo so, però io non proverei ecco, nel senso però se passate lì e sentite un certo odore di estetista, di manicure, sappiate che è quello. No, un incidente abbastanza poteva finire molto molto male, per fortuna invece niente di grave, anzi appunto il conducente in codice giallo, ma senza grossi pericoli, quindi insomma per fortuna tutto bene, quel che finisce bene in questo caso, si può utilizzare tranquillamente. Continuiamo con un po' di musica, perché abbiamo sentito i Beatles, prima abbiamo sentito anche i Backstreet Boys, anzi grazie a Erika che ci scrive, è il 97, mi sto preparando per andare a scuola, fa freddo, ma per fortuna ho il mio lettore CD nelle cuffie, e sono felice, buona giornata, questo è quello che fa la musica qui a Crystal Radio, 33178-53555. Sweet Home Alabama, siamo alle 7.39 minuti di oggi martedì 23 gennaio, adesso vi faccio sentire una cosa, ditemi se la riconoscete, chi è questo qua, chi è? chi è? chi è? è Kevin di Mambo perso l'aereo, quella scena famosissima, in cui si mette il dopo barba davanti, in faccia, no? a Macaulay Culkin, in Mambo perso l'aereo, perché ve lo ho fatto sentire? Perché oggi, 23 gennaio, pensate che giro ho fatto nella mia testa, perché oggi, 23 gennaio, 80 anni fa, nel 1944, moriva Edward Munch, con l'urlo, che richiama quella scena, capite? capite il mio cervello che giro ha fatto? Eh sì, Edward Munch, famoso appunto per tante sue opere, tra cui l'urlo, moriva 80 anni fa, e quella scena richiama proprio l'urlo di Munch, non mi ricordate le mani sulla sul viso, tra parentesi, non ricordavo, è parte anche della copertina di Mambo perso l'aereo, e cercando Mambo perso l'aereo urlo, vengono fuori almeno una decina di scene, effettivamente in quel film urlano tutti, urla chiunque urla, urlano i ladri quando vengono menati, picchiati, caduti, giù dalle scale, prendono roba in testa, urla la mamma quando si accorge che non c'è più Kevin, cioè che non c'è Kevin in aeroporto, urla Kevin ogni tre per due, insomma ecco, forse era un tributo a Munch, va bene, sempre oggi, ma 35 anni fa, nel 1800, scusate, 1989, invece ci lasciava Salvador Dalì, eh sì, Salvador Dalì ci lasciava appunto 35 anni fa, ma soprattutto, o meglio, altra notizia sempre di oggi, 23 gennaio, cosa succedeva nel 1932? 92 anni fa, il primo numero della settimana enigmistica, eh sì, perché è lungo, appunto, nasce in America, poi viene esportata verso l'Austria, dove abbiamo altri numeri, ma soprattutto, appunto nel 1932, sbarca in Italia, eh, la mania dei Cruciverba e dei Rebus, proprio con la settimana enigmistica, 92 anni fa, il primo numero della settimana enigmistica, quest'oggi, bisogna vedere se questa settimana fanno un numero speciale, c'è ancora, perché c'è ancora, sì, e so di tanta gente che la utilizza, soprattutto quando fanno lavori molto interessanti, se la nascondono sotto, va bene, ci sono delle scene di The Office che sono fantastiche, su qualcuno che fa la settimana enigmistica, è sempre molto interessante, 3 3 1 7 8 5 3 5 5 5 5, questo è il nostro numero di Whatsapp, grazie mille ad Alberto che ci ha scritto poco fa, buongiorno Fabio, buongiorno Cristallini, pronti per una nuova fredda giornata, ebbè sì, in questo istante, ai nostri termostati, termometri di stazione, e se ne fosse uno che funziona bene, eh, zero gradi, ci dà zero gradi in questo momento, ovviamente il computer, allora, la cosa bella è che noi abbiamo i computer in giro per la, per la stazione che ci dicono zero gradi, anche il cellulare, ci dà tutte le informazioni, ma il computer proprio della radio, il computer quello di stazione, dice sempre 20 gradi solleggiato, cioè dice sempre quello, io vorrei sapere su che cosa è impostato, credo su Acapulco, qualcosa del genere, perché ma non lo so, c'è un clima mite temperato, non lo so, che impostazione ci sia inserita, comunque, mi raccomando, oggi è sì, oggi è una di quelle giornate belle frescoline, che dovete tenere a mente, ma siamo verso i giorni della merla, quindi bisogna stare attenti, adesso controllo bene quando iniziano i giorni della merla, ma mi sa che ci siamo quasi, se non è questa settimana, è fra qualche giorno, intanto andiamo con un po' di musica, allora, lui è Tommaso Paradiso, cantava con dei colleghi, si chiamano dei giornalisti, erano i nostri colleghi, ma poi dopo si è messo a fare da solo, e quindi, Tommaso Paradiso, che ci vuole dire, di ricordarlo, e sì, perché, ricordami, Tommaso Paradiso, 7.43 minuti, Crystal Radio, Good Morning Milano, vi ricordo il numero, 331-7853-555, scrivetevi anche stamattina, voglio leggere i vostri messaggi, a fra poco. Tommaso Paradiso, ricordami, bentornati a Good Morning Milano, bentornati su Crystal Radio, e continuiamo con le notizie, anzi, grazie, prima avevamo parlato di giorni della merla, quindi grazie a Filippo, che ci scrive al 331-7853-555, e ci ricorda, buongiorno Fabio, buongiorno Crystal Radio, i giorni della merla, sono il 29, 30 e 31 gennaio, quindi settimana prossima, ci siamo, e manca poco, manca poco, per quello che si sta diventando frescolini, le mattinate, i giorni della merla, sono i giorni più freddi dell'anno, secondo la tradizione, e il freddo però, non ferma la Movida, perché sappiamo benissimo, che quella non si ferma mai, ma sappiamo che insomma, in alcune zone, è un problema, allora oggi, su Repubblica Milano, c'è un articolo, che parla proprio della Movida, nella zona di Vialecco, e inizia con le multe, cioè, sempre interessante, intitola così, multe contro la Movida, 2600 verbali, per le auto in sosta selvaggia, di notte in Vialecco, e voi direte, ah, 2600 verbali, in una notte sola, no, in due mesi e passa, quindi non è, però, è comunque un bel, un bel numero, poi in realtà, se andiamo a leggere, sono un po' di meno, nel senso che sono, 1258 verbali, tra, novembre, tra ottobre, e novembre, tra il 20 ottobre, e il 18 novembre, quindi un mese in realtà, nella zona, allora, 1258 verbali, solo tra Vialecco, via Palazzi, via Castaldi, Largo, Bellintani, e, appunto, via Lazzaretto, poi, non si capisce perché, staccano, perché tra via Melzo, e via Lambro, 371 sanzioni, e altre mille, nelle aree decenti, nelle zone vicine, altre mille, così, a caso, in teoria, se fate il conto, dovrebbero arrivare a 2600, più o meno, va bene, questo è quello che ha detto, appunto, l'assessore Granelli, in una conferenza stampa, a Palazzo Marino, dicendo che, il Comune ha sperimentato, nella zona di Porta Venezia, un'ordinanza per la chiusura, anticipata di Deor, a mezzanotte, durante la settimana, e fino all'una e mezza, nei weekend, secondo il Comune, è un test con esito positivo, secondo i cittadini, ne abbiamo anche già sentiti, qua al telefono con noi, un esito negativo, perché in realtà, non cambia assolutamente nulla, se non anzi, da una certa parte, non stanno neanche più vicino i locali, cioè vanno, cioè, stato brado della gente, che pascola, in mezzo alle strade, dopo la chiusura di Deor, e quindi, non cambia nulla, nel senso che, tanto io, dentro posso comprare, perché il locale non è chiuso, quindi vado dentro, bevo dentro, me la porto fuori, va bene, non c'è problema, ma comunque, poi se fumo esco fuori, se voglio fare due chiacchiere, esco fuori, e quindi, io continuo a dire, che il problema di quella zona, è che, a differenza di come una volta era, cioè, che i locali servivano a chi abita nelle zone, ormai abbiamo delle zone troppo centrali di Milano, in cui, chi vive quei locali, non abita lì, e quindi, non abitando lì, non essendo legato al territorio, sia il commerciante, sia l'avventore, non è legato al territorio, un po', passatevi il termine, se ne sbatte, e quindi, basta, vado lì, faccio casino, anzi, vado a fare casino, lontano da casa mia, così a casa mia non c'è casino, e lo faccio lì, e questo è il problema, cerchiamo di ritornare ad avere delle zone con una più bassa concentrazione magari di locali, oppure creare delle zone apposite, io, quello che propongo sempre è, perché non facciamo un bel, possiamo qui a fare 100 commerciali ovunque, perché non facciamo un 100 commerciali di locali? Lo facciamo, no? Al Merlata Bloom, hanno fatto 200.000 ristoranti, che potete mangiare qualsiasi cosa, dalla scimmia, al paguro, al cinese, al giapponese, all'iraniano, potete fare quello che volete, ecco, facciamo anche un altro piano, pieno di locali, dove si può andare, potete fare tutto il casino che vuoi, puoi schiamazzare tutto il tempo, tanto a chiedere fastidio a nessuno, perché se chiuso lì dentro, non è un'idea balsana, nel mondo esistono queste cose. Sheila B in Devotion, con Spacer, questa era la Crystal History, delle 8, alle 8.07, e ci ritroviamo qui invece, in diretta, con Good Morning Milano, Crystal History, che sapete, tutte le ore, ci ricorda una canzone, che fu una canzone, del passato, e quindi possiamo, ascoltarla, e anzi, in questo caso, anche magari, muovere, muovere la colitta, ballare un pochino, e muoverci, che insomma, fa sempre bene la mattina, risveglio muscolare, con Good Morning Milano. Allora, abbiamo parlato di stadio, nei giorni scorsi, qualcosa viene fuori, ancora di più oggi, sul giornale, capiamo meglio un po', quello che sarà, diciamo, il progetto, su Milano Repubblica, c'è tutto un articolone lungo, anche se, viene detto subito, che i dettagli, verranno presentati, il 31, a Palazzo Marino, sembra appunto, che l'Inter sia già, incuriosita, e l'architetto Giulio Feinevers, dice che, il disegno preliminare, che abbiamo messo a punto, è la sommatoria, di diverse parti, alle quali ci si può dedicare, in momenti diversi, quindi, il cantiere sarà diviso, in lotti principali, e secondari, sorta di pezzi, di un puzzle, indipendenti, ma complementari, ad esempio, i lavori sul primo anello, saranno divisi in sei parti, e se ne affronterà, una alla volta, così che appunto, si potranno anche svolgere, le partite, per ridurre i tempi di cantiere, all'interno dello stadio, i monofatti compatibili, con questa strategia, saranno realizzati all'esterno, per essere assemblati, attenzione, e quello che stanno raccontando, è la tecnica, di qualsiasi costruzione ormai, fatta, di grande costruzione, fatta al mondo, ma anche i cartacelli, vengono fatti così, ma anche i palazzi, in realtà, residenziali ormai, vengono fatti così, cioè, c'è una fabbrica, che sforna pezzi, poi un camion, li porta lì, e questi pezzi, vengono montati, sì, come il Lego, bravissimi, proprio come i mattoncini del Lego, e via di massima, per capire quanti, spettatori in meno, potrà cogliere lo stadio di San Siro, si fa una stima, sul primo anello, diciamo che ogni porzione, occupa circa, 3.000 posti, quindi un numero, assolutamente accettabile, cioè, se andrà di 3.000 in 3.000, cioè si fa prima un pezzo, 3.000 posti, quindi via, quindi meno 3.000 posti, a San Siro, finito quello, ci si sposta sull'altro lotto, quindi, quei 3.000 si spostano, ok, quindi si dice che non dovrebbe andare troppo, troppo nei dettagli, tutto sull'altro, non dovrebbe scendere troppo il numero di spettatori, che possono entrare a San Siro, ovviamente, l'architetto ricorda anche che negli anni 90, gli stradi furono ristrutturati, San Siro compreso, mentre le squadre giocavano, ok, e pensate che addirittura al Meazza, si costruì il terzo anello, quindi qui si tratta di una ristrutturazione, certamente significativa e rigenerativa, ma leggera, perché le strutture saranno mantenute al 95%, mentre solo una piccola parte sarà completamente riconfigurata, in funzione anche poi, appunto, dell'introduzione di nuovi corpi scale, vie di uscite nuove, per rispetto appunto delle nuove normative anti-incendio. Infine, poi il campo da gioco, il campo da gioco c'è una proposta presentata al sindaco, compreso anche dell'eventuale rifacimento del campo da gioco, che ovviamente verrà fatto a squadre ferie, abbiamo previsto un capitolo che contempla la ristrutturazione del campo, con elementi tecnologici che lo trasformano in un campo dinamico, cioè una piattaforma adatta ad avere sia il campo da calcio, che in caso invece essere chiuso, ed essere ricoperto in un altro campo, per ad esempio i concerti, e ci sono appunto tante tante altre idee, che sono state fascicolate, in altri capitoli sono pronte lì per essere aggiunte a un progetto, che secondo me ha un che non so che di interessante, tant'è che non sono l'unico a essere interessato a questo progetto, ma lo è soprattutto, e così sembrerebbe dalle indiscrezioni di Palazzo, anche l'Inter, sì, l'Inter è quello che ha vinto la Coppa ieri, sì, proprio quello lì, sembrerebbe che sia interessato a questo progetto, quindi buona e lunga vita a San Siro. Era Noemi con Glicine, e andiamo avanti a parlare di stadio, perché stavo leggendo un po' quello che sono i dettagli di questa nuova proposta dello studio Arco Associati, con il professore Giulio Feinves, che appunto ha prodotto questo primo studio, che il 31 vedremo meglio nei dettagli, soprattutto perché tra le righe si vede una cosa, che molti giornali invece hanno tirato fuori come titolo importante, che è il quarto anello. Eh sì, c'è un quarto anello, no, non sarà però messo sopra il terzo anello, no, sicuramente che noi siamo una città, Milano è una città particolare, quella che ha fatto la M5 prima dell'M4, quindi perché fare un quarto anello e metterlo sopra il terzo? No, no, sarà un anello tra il primo e il secondo, che sbucherà fuori, sia verso l'esterno dello stadio, che verso l'interno dello stadio, perché sarà quello dei VIP, e sì, sarà quello che ci sta giocando tutta la partita, sui 5.000 o 8.000, dipende dalle poltrone che si useranno, posti VIP che le squadre avranno a disposizione per i propri skybox, insomma lo sappiamo, i posti premium, quelli dove si fanno i soldoni grossi vendendo quei biglietti, o dove si fanno gli amici grossi regalandoli. Il progetto appunto prevede questo quarto anello, che sarà un anello interessante appunto, anche perché rispetterà l'eventuale vincolo del secondo anello, ma verrà costruito anche qualcosa più esternamente, nel senso che l'idea è quella di fare due costruzioni totem, due palazzine, due grattacieli, poi vedremo un po' quanto si cuberà in quel momento, quando si andrà al progetto, con magari l'idea di mettere dentro gli headquarters delle due squadre che potrebbero essere collegate direttamente allo stadio con dei sotterranei, ma soprattutto verrà rifatto tutta la piazza con il parco, con un parco, così viene detto, nello studio Arco, scusate il gioco di parole, e ci sarà anche una ricostruzione delle cancellate, proprio con un edificio, come fosse una sorta di anello che ingloba dentro lo stadio di San Siro. Questo in tantissimi stadi è così, che praticamente da fuori potrebbe sembrare a quel punto un palazzetto, ecco, l'idea è quella, in modo da fare gli ingressi coperti, come fossero dei foyer, si entra in maniera ben ordinata, insomma, vediamo, e poi è meglio di capire come fare a gestire questa roba con le curve quando arrivano, però vabbè, poi cerchiamo di capire. La cosa interessante, appunto che viene ribadita in più articoli e in più volte su tutta la stampa che ne sta parlando, quella anche dell'idea del campo modulare, cioè un campo che possa essere campo da calcio quando serve, ma poi rientrare sotto le tribune o nel pavimento, diciamo, ed essere coperto da altri tipi di campi. Ci sono dei bellissimi video, cercate dei campi retratti, dei campi modulari sui social, perché ci sono, ad esempio, degli stadi che passano dal campo da calcio al campo da football, che pensate, voi dite, sono uguali, no, però c'è tutte le linee diverse, ecco, allora vengono modulati così, ma anche da campi da calcio o da football, appunto, in campi da basket, quindi completamente diversi, completamente fatti in maniera diversa, con la copertura che si chiude sopra, così che diventi un palazzetto chiuso, e che poi, quando invece si gioca al football americano, si apre il tetto, ma soprattutto anche si scambia il pavimento. Dovete immaginare una sorta di grande magazzino sotterraneo, in cui a ogni livello ci sono le piastrelle da mettere, ok, quello, e poi ci sono appunto anche i piastrelloni, per ad esempio coprire il prato, quando, o meglio, coprire quel punto di pavimento vero e proprio, quando ci sono i concerti, ad esempio, e quindi diventa veramente un'arena modulare, e degna di quello che potrebbe essere poi nel 2026, anche l'apertura delle Olimpiadi Invernali. Potete riascoltarci, rivedendo tutto, sul nostro podcast, e sì, abbiamo il podcast Good Morning Milano, il podcast con cui potete seguire tutto quello che succede qua la mattina. A proposito di podcast, a proposito di musica, a proposito di radio, vi ricordo che sta per arrivare a Sanremo, e manca pochissimo, ma come poter fare a vivere meglio Sanremo ascoltando Crystal Radio, con la nostra Fanta Lega, la Lega di Crystal Radio del Fanta Sanremo, e sì, potete iscrivervi, andate su un Fanta Sanremo, cercate Crystal Radio con la K e 2L, e ci trovate, siamo lì. La Lega di Crystal Radio, tante squadre, c'è anche la mia, mi raccomando, fatele meno forti della mia, perché devo vincere, sapete che sono uno che non è competitivo, no, scherzai, l'importante è partecipare, l'importante è che vinca Fabio, questo è il claim della Lega, anche con Morning Milano, no, la Lega è proprio di tutta quanta la radio, tutta quanta la radio sia unita, nel creare questa Lega, quindi Crystal Radio, è la Lega del Fanta Sanremo, di Crystal Radio, appunto, che poi, anche nei prossimi giorni, vi diremo un po' come seguire, grazie a tutti quelli che stanno giungendo le squadre, in questi giorni, non preoccupatevi, potete anche fare più leghe, cioè, potete fare una squadra, e potete iscrivervi fino a 5 leghe, sono 5 leghe, in cui potete iscrivervi, noi ci siamo, e siamo appunto quella che ci piace di più, è quella di Crystal Radio, ovviamente, ma vabbè, vi faremo sapere poi Sanremo, come lo seguiremo, ma sicuramente lo seguiremo, avremo ospiti, avremo anche collegamenti con Sanremo, ma questo, ne parleremo delle prossime settimane, nei prossimi giorni, prima, mi raccomando, ci sono i giorni della merla, abbiamo detto, 29 e 30 e 31, poi andiamo al 6 febbraio, quando inizia Sanremo, ma per adesso, rimaniamo qui, a Milano, Milano, che vede, ripartire, l'edilizia, convenzionata, anzi, il futuro dei giovani studenti di Milano, sono nelle mani, del figlio di Mike Bongiorno, ebbene sì, perché, da Repubblica Milano, scopriamo che, il figlio di Mike Bongiorno, è quella passione di famiglia, per il mattone, uno studentato, in nuove borse di studio, nel nome di papà, e bravo Leonardo, Leonardo Bongiorno, 34 anni, figlio appunto, di Mike, e di Daniela Zuccoli, che, con la sua holding, The 100, che è una media holding, ma in realtà, lui si occupa soprattutto, della parte di real estate, finanza, e dice, ho ereditato, la passione della mamma, per l'edilizia, e come famiglia, siamo sempre stati attivi, nel campo degli sviluppi immobiliari, l'idea è quella appunto, di creare, proprio, un viale certosa, un nuovo, studentato, 12.000 metri quadrati, residenze per studenti, e giovani professionisti, e questo, bravo, e grazie Leonardo, insomma, queste cose servono alla città, poi, però adesso ti stiamo all'occhio, e vediamo poi, quanto il custo sta lì dentro, perché, insomma, poi ci vuole, il portafoglio ad organetto, come dice qualcuno, non è così facile, però no dai, l'idea è interessante, è interessante che, anche l'edilizia, comincia a guardare bene, chi sono i veri fruitori, della città, e cioè, i migliai e migliai, di studenti universitari, che vengono tutti gli anni, a studiare, nella grande città universitaria, di Milano. Gregus, Cesare Cremonini, 8 e 36 minuti, oggi è martedì, al martedì si parla di periferie, buongiorno, Walter Cherubini, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori, e una buona giornata. Consulta Periferia Milano, e allora, oggi vogliamo parlare di uno, di un tema che viene ripreso, anche dal detcalogo, di ripartire per le periferie, giusto? Sì, diciamo che il focus periferie, di questa settimana, lo dedichiamo, a una situazione, che è quella, dell'utilizzo, degli immobili comunali, in particolare, quali destinati, diciamo così, all'associazionismo. Ok. Associazionismo, che, non fa, stiamo parlando di associazionismo, non quello che fa iniziative, chiamiamole così, con tutto il rispetto, naturalmente, però, volutuarie. Sì, sì. Voglio collezionare qualcosa, stiamo parlando di tutta una serie di realtà associative, che fanno delle cose, che alcune volte vengono anche riconosciute, premiate, gli danno l'ambrogino, riconoscimenti vari, e dopodiché si trovano, che utilizzano dei immobili comunali, dopodiché si trovano, per una, diciamo così, situazione, legislative, burocratica, in una serie di difficoltà, quando questi contratti di locazione, di assognazione, scadono. Ecco, qui entra tutto un meccanismo, che è quello, chiamiamolo così, dei bandi, che, dal punto di vista generale, non distingue molto, come logica, dall'assegnazione, dei negozi, che ci sono, in galleria Vittorio Emanuele, piuttosto che, un'associazione, che magari sta, in quel di Villa San Giovanni, e si occupa, di persone, che hanno delle necessità particolari. Perché il tema qual è? Nei bandi, se io, faccio un'offerta più alta, rispetto ad altri, potrei portarmi a casa, l'immobile. Il problema è che, stiamo parlando di associazioni, che a volte fanno anche solo fatica, a fare il minimo sindacale, di quello che viene chiesto, come locazione, nel senso che, in teoria, anzi, mi verrebbe da dire, dal donatore, che magari dona dei soldi, a un'associazione, preferirei che quei soldi vadano, all'opera dell'associazione, e non a pagare l'affitto al comune. Posso dirlo, proprio anche così, brutalmente? Ma proviamo un attimino, a ribaltare il concetto, va bene? Ribaltiamo il concetto, cioè, la città di Milano, si fa carico, di queste necessità, che vengono conclamate, oppure no? E attraverso i suoi strumenti, diciamo così, organizzativi, la propria amministrazione comunale, perché, ricordiamo, l'amministrazione comunale, non è un organo separato, dalla città, un organo contro la città, è un organo, espresso dalla città, e quindi, c'è questa pressione osmotica, mettiamola in questa maniera, dopodiché, non può essere tutto perfetto, però possiamo anche, migliorare sicuramente, determinate cose. se ci sono delle situazioni che richiedono, su cui è riconosciuta la necessità, perché? Perché ci sono la necessità di supportare i ragazzi per la scuola, perché ci sono delle persone che hanno delle difficoltà di diambulazione, chiamiamole come vogliamo, cioè lo spettro è amplissimo, allora, c'è bisogno di un luogo dove fare determinate cose, la collettività, il Comune di Milano, cioè la nostra comunità, mette, siccome ha numerosissimi spazi immobili, che tra l'altro non sono utilizzati, e quindi, e che rimangono anche degradati, e sono anche luogo di occupazioni abusive e quant'altro, ecco che allora, per creare un tessuto sociale che regga, è necessario che la città dica, va bene, io mi faccio carico di queste cose, e se trovo qualcuno che se ne fa carico, cerco di aiutarlo in tutti i modi, quindi una delle questioni fondamentali, è anche quella della continuità dell'iniziativa, noi ci siamo legati un pochettino mani e piedi, a livello legislativo generale nazionale, e anche a livello locale, dove utilizziamo questa categoria dei bandi, pensando che sia la panacea di tutti i mali, invece i bandi per loro definizione, sono limitati nel tempo, e invece tutta una serie di iniziative, hanno bisogno di tempi lunghi per disbiegarsi, e anzi hanno avuto anche tempi lunghi per consolidarsi, prendiamo per esempio il pane quotidiano, il pane quotidiano che ha due sedi, uno in Viale Toscana e uno in Viale Monza, in particolare la sede di Viale Monza, è scaduto, diciamo così, il contratto nel 2021, poi il Comune ha fatto un bando, l'ha messo a bando, quindi chiunque poteva concorrere, ma l'ha messo a bando con tutta una serie di vincoli, prescrizioni e quant'altro, a partire da 8 mila euro di locazione, ma poi prevedeva tutto quanto alla ristrutturazione dell'edificio, e capite che una realtà come il pane quotidiano, che cerca di mettere insieme il pranzo con la cena da dare a migliaia di persone, se si trova anche ad affrontare delle spese enormi, comincia a essere difficile. Il risultato è stato che a questo bando non ha risposto nessuno. Nemmeno lo stesso pane quotidiano. Nemmeno loro, perché noi abbiamo anche dei sostenitori, persone che ci aiutano e quant'altro, però nel momento in cui ci dicono, ci state dentro per nove anni, pensiamo che il pane quotidiano è una realtà associativa che è data dal 1898, se non mi ricordo male, comunque da fine 1800, quindi capite che ha una visione delle cose che è lunghissima. Allora, un bando gli dice, guarda, tu per nove anni devi ristrutturare, investire e quant'altro. Infatti non investe nessuno. Adesso sono in questa situazione precaria, dove tra l'altro continuano a pagare, chiamiamola così, la pigione, ecco, per una iniziativa che tutti quanti dicono che è necessaria. Questo è il punto, ma questo vale per tantissime altre cose e tantissime altre realtà. Beh, che adesso poi andremo a scoprire meglio. Allora, intanto andiamo un po' con un po' di musica con Francesca Michelin con Solite Chiacchere. Francesca Michelin, Solite Chiacchere. E sono sempre grandi chiacchiere, quelle che facciamo qui il martedì con Valda Crubini, ma non sempre le solite, anzi, cerchiamo sempre di trovare nuovi spunti, anche se poi ogni tanto bisogna tornare su dei temi, perché questo tema, ad esempio, delle locazioni, dei bandi, dell'unico modus operandi che ormai c'è, pensando che sia l'unico modo per gestire il patrimonio pubblico da dare in mano alle associazioni, beh, l'abbiamo già detto altre volte, però insomma non è mai abbastanza, perché poi si scoprono situazioni come il pane quotidiano, ma anche altre associazioni, parlavi anche di un'associazione dell'Ortica, giusto? Mi dicevi. L'Ortica PS, esattamente. Ma, allora, queste parole che diciamo, abbiamo provato a scriverle nel 2020 nel cosiddetto decalogo dalle periferie per ripartire. Eravamo in pandemia, agli inizi nulla sarà come prima, le cose cambieranno, e tutto il resto. Allora, alla luce di un'esperienza ormai decennale, pluridecennale, anche con centinaia di altre realtà, abbiamo provato a mettere in fila, scrivendole, un decalogo. Un decalogo che non fissa degli obiettivi o vorrei fare questo e quest'altro, ma fissa tutta una serie di elementi burocratico-organizzativi in linea di massima afferenti all'amministrazione comunale, ma anche, per esempio, alla SIAE, la società degli editori. Punto 7, stavo guardando adesso. La SIAE punto 7. La SIAE degli editori, per esempio. E quindi, dove si dice, guardate, che se noi continuiamo a fare le cose con le regole che sono state utilizzate fino adesso, non cambierà assolutamente niente. Ritorneranno tutti quanti i problemi che c'erano prima, dopo la pandemia ritorneranno. Siamo nel 2024, la pandemia si muove sempre un po' sotterraneamente, non è che sia sparita, dalla circolazione, però, diciamo, siamo ritornati in quell'attività abbastanza normale, come c'era prima, e tutti i problemi ritornano a capo. Allora, in particolare, noi, sull'argomento di cui stiamo parlando adesso, che è quello esattamente dell'utilizzo delle strutture comunali, e quindi, stiamo parlando del decalogo dalle periferie per ripartire, il punto 4 diceva rinnovo concessioni e locazioni di locali di proprietà pubblica. E appunto, dicevamo, per le associazioni culturali e sociali periferiche, perché, essendo consulta periferie Milano, ci occupiamo non di piazza del Duomo, che hanno locazioni con il comune di Milano ed altri enti pubblici, prevedere che alla scatenza possa esservi il rinnovo e non lo sfratto, come è adesso, eliminando la precarietà di chi si impegna, stiamo dicendo adesso, per esempio, per il pane quotidiano, e che per l'assegnazione non si prevedano canoni al rialzo, perché l'iniziativa nei quartieri periferici non può essere lasciata sulle spalle dell'associazionismo, mentre sfitto e abusivismo sono altissimi, anche creando pericoli. Allora, questo è il tema, se io ho un'iniziativa che funziona, rispetto tutte quante le regole, do un contributo alla città, mi ha anche riconosciuto magari con l'ambrogino e così via, allora ci deve essere una organizzazione che prevede il sostegno di queste realtà, perché tutte le volte che arriva una lettera di fine locazione, tutti quanti si cominciano a mettere in agitazione, ma giustamente si cominciano a mettere in agitazione, anche perché appunto c'è l'associazione L'Ortica, che si occupa di persone che hanno delle difficoltà personali, piuttosto significative, e hanno fatto un bando dove dicevano il canone di locazione base, canone di locazione base, 10.000 euro l'anno, e fa, ma noi come facciamo a pagare 10.000 euro l'anno, è già fin troppo che riusciamo a tenere, per un nucleo, magari uno può dire nella Milano ristretto, perché danno risposta a 60 casistiche e relative famiglie, però sono tutte queste varie gocce che da sole uno dice, vabbè sono 60, no, se noi guardiamo la città nella sua complessità, ma sapete quante gocce ci sono queste? Ecco, per tutte queste gocce ci sono dei problemi di locazione. Ecco, questa cosa però è dovuta al fatto, non voglio, voglio da me spezzare, non ci dovrei spezzare una lancia a favore del comune, però in realtà il comune, diciamo che in questo momento è in un certo senso di che c'è così, è obbligato a fare questa cosa qui, perché le regole dicono questo, ma soprattutto perché se fosse direstamente c'è il discorso della Corte dei Conti, com'è che funziona lì? Il danno erariale viene calcolato? No, allora ci sono varie modalità con cui affrontare il tema, è chiaro che vuol dire anche approcciare con una lente di ingrandimento più attenta. Io prendo e dico, va bene, uso i bandi, chi mi dà più soldi entra, rispetto a determinate condizioni, è chiusa e morta lì. Invece, se io comincio a vedere, porto un piccolo esempio banalissimo, c'era una persona che è stato presidente del consiglio di zona 1 ai tempi che furono e viveva anche in centro, presidente, ha fatto l'università in centro e tutto il resto, poi è andato a collaborare con l'assessore all'urbanistica. Stiamo parlando degli inizi del 2000, per cui non proprio secoli fa e allora per forza di cose per andare a vedere l'urbanistica di Milano è dovuto andare diciamo così fuori dal suo cerchio magico dalla cerchia dei bastioni proprio. Già la circonvallazione cominciamo ad essere fuori. E allora mi dico, ma è tutta un'altra cosa? Ecco, il tema è proprio che è tutta un'altra cosa. Continuiamo a dire, ma il centro e le periferie non sono... E invece sono un'altra realtà. Dopodiché c'è la periferia che sta bene e la periferia invece che sta male. La periferia che sta male dobbiamo tenerne conto che come regole non vuol dire periferia che sta male e quindi ha bisogno del pronto soccorso. C'è una periferia che ha delle criticità ma anche ha delle risorse all'interno. Parliamo sempre dell'associazionismo e così via. Sembra che l'associazionismo abbia un effetto taumaturgico. Prendo l'associazionismo e risolverai i problemi. Guardate che se Milano ha tutta una serie di problemi con un associazionismo che è molto significativo vuol dire che il sistema che presiede le relazioni e le regole non è adeguato. In gran maggio ogni tanto si incritta. Non è assolutamente adeguato. In particolare non c'è la gestione territoriale. Quindi noi interveniamo molto spesso come in questo caso in una realtà un'iniziativa fatta in periferia con delle regole che sono quelle che valgono per il centro città e anche per altri settori magari settori commerciali e così via. Questo qui è esattamente il tema di fondo. In secondo luogo non abbiamo un governo vicino che quindi abbia come priorità quel luogo lì vicino perché tutto è organizzato centralisticamente. Quindi ciascuna in realtà deve fare tutta una serie di trafile. Punto uno del decalogo del centramento. Sempre si torna lì giusto? Io direi che nel vostro puntato devo riprenderlo tutto quanto punto punto e sviscerarlo bene questo decalogo perché è del 2020 sono passati quattro anni ma è molto attuale ancora mi sa. No ma perché perché noi abbiamo in fine della fiera una organizzazione amministrativa che eredita l'idea di 50 anni fa buona che non è mai stata resa esecutiva. Il risultato è che noi abbiamo 250 giocatori che hanno le magliette ma che sono i consigli di municipio e presidenti l'unico problema è che non hanno il pallone ricordiamo oggi in questa occasione anche la dipartita di Gigi Riva che per noi che abbiamo qualche anno in più è stato sicuramente un simbolo ma anche come tipo umano da questo punto di vista anche legami a un territorio periferico essendo rimasto in Sardegna senza voler dire che Sardegna è periferico però sicuramente nel mondo del pallone ma Cagliari è riuscita a vincere con Maglio Scopigno anche uno scudetto quindi questo che cosa vuol dire che le cosiddette eccellenze non è una gran bella parola a dire la verità ci sono da tutte le parti quindi cerchiamo di affrontare questo problema e di farle uscire queste eccellenze perché ci sono appunto bisogna andarle a scoprire e ci sono grazie Walter ci vediamo martedì prossimo ci sentiamo martedì prossimo potete riscoltare tutto quanto anche sul podcast di Good Morning Milano appunto gli interventi di Walter Cherubini con il suo Focus Periferia grazie mille Walter grazie a voi e buona giornata e buona giornata a tutti andiamo con la nostra sigla 8 e 55 minuti martedì 23 gennaio siamo arrivati alla fine anche di questa puntata puntata del martedì qui diremo ancora tanti giorni prima di venerdì ma saremo sempre qua a raccontarvi Milano e tutto quello che ruota intorno alla nostra grande città dopo di noi come sempre Ambrogio Curti con Senti Questa sempre la grande musica gestita selezionata prodotta mixata da Andrea da Ambrogio Curti per una puntata scoppiettante nel martedì appunto di Senti Questa Noi ci risentiamo domani mattina come sempre qui alle 7 e fino intorno alle 8 e 56 siamo in vostra compagnia vi raccontiamo quello che si è da Milano leggiamo i giornali insieme abbiamo un po' di ospiti con cui chiacchierare oggi abbiamo parlato di periferie domani chissà domani per sapere di cosa parliamo vi collegate domani mattina con noi qui su Cristal Radio vi ricordo che tutto questo lo potete riascoltare poi in podcast sia su Spotify che su Apple Music ma anche potete rivedere tutto su Milano All News insomma non c'è modo vi veniamo a scovare ovunque voi siate noi vi troviamo 8 e 57 minuti se ci siete ancora all'ascolto e siete ancora in casa e dovete uscire siete in ritardo quindi vedete di uscire perché domani noi ci risentiamo quale 7 ma voi oggi avete una giornata da affrontare e quindi a domani buona giornata a tutti e ciao a domani ciao ciao